Allora, benissimo, lei deve stare fermo così in moglie. Allora, benissimo, lei deve stare fermo così in moglie. Allora, benissimo, ci siamo, perfettamente. Allora, ragazzi. Allora, è il momento del riconoscimento. Vediamo un po'. Perché la moglie ora dovrà riconoscere il marito, naturalmente, sentendo solo cara a fede. Non sento fare un giro e riportando la larga così, non capisce. Allora, Fidelica, devi toccare, non quello in pezzi, ma devi toccare il polpaccio di questi ai tanti uomini e devi decidere qual è quel mio marito. Ci siamo? No, io ci sono. Allora, la mia colmella, ecco il primo piede, benissimo. Sentiamo. Alla furba, è in salire. Non salire, non... No, no, è troppo secco, non è. È troppo secco, non è. Allora, passiamo al secondo uomo. Vediamo un po' se è questo. Decisa? No, no, non è nemmeno questo. No, non è nemmeno questo. Benissimo. Facendo un giro, allora, ecco c'è un altro uomo. Ehi, buon male. Ehi, allora, allora dove va la mano? Ecco, mettiamo i polpacci. E ci siamo, eh. E forse, si mette in forza lui. Allora, mettiamo in forza lui. Non capiamo. Ma mettiamolo in forza. Allora, sentiamo quest'altro uomo. Dov'è? È qui davanti a te, ecco qua. Capiglia, fine, benissimo. Bene, queste patelle è messo. Oh, bene, buon male. Questo è il palcivista. È questo? È questo del pirato? È quello del pirato, yeah. Quello del pirato? No, attenzione se è il tuo marito. È il tuo marito? No, questo è il pirato. No, benissimo. Allora, andiamo da questo uomo. Perché lui non è il pirato. Ma prima lei. Ma prima lei. A polpaccio uguale. Allora, a polpaccio. Allora, Larry, su, tocca bene. E lui, mi sembra, intanto uno l'abbiamo messo. Eh, un di là più il suo, eh. E lui non è il patello ne ha. Ecco qua. Non è lui, non è lui. Ma c'è anche questa, guarda, quest'altro uomo. Ecco qua. Questo, benissimo. E, 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 e. E' una femmina. E' lui, è lui. Oh, che femmina, eh. Allora, aspetta, lo facciamo. Non è il punto del attività di lui. No, aspetta. Aspetta, aspetta. No, è lui. Ma aspetta, non ci dice, Gino, che cosa ci dà. O ce n'è un altro. E non ce ne dimentite. Allora, aspetta, vediamo un po' questo. Come il motion. No, no, no. Poi è depilato anche questo. Ma sono le rondini di oggi. Ma quanti ce ne sono? Ma ecco, guarda. Ecco, questo. No, è troppo secco. No, è troppo secco. La sposa ha detto no, lascerà uno o mi forzi? Cioè l'ultimo. Beh. Ecco qua. Dove siamo? La tua belle trovata. L'ultimo, ecco. Ma non ci sta, eh. I suggerimenti. No, è questo il punto. Allora, allora, aspetta. Allora. Allora. Con uno ti sei scoperto. Allora, aspetta. Allora, aspetta. Perché ce l'hanno solo qui. Ehi, giovanata. Ma guarda. Non passo al polpaccio. Dove ha toccato? No, è lui, lo so. Allora, decidi. Ma l'uno, il due o l'ultimo? Ma il tre, è il tre. Allora, è il tre. Allora, aspetta. Aspetta, ti si va a ritoccare. No, no, non lo voglio a ritoccare. No, no, non lo voglio a ritocchi, eh. Pronta? Pronta? Sì, buona. Allora, vediamo l'ultimo. L'ultimo. Questo è se... Ma forse non è se si sta pure. È una. Allora, mostrando il due. Dai scendere uno. Al centro di prima. Si può, al centro di prima. La meglio di prima? No, la meglio di prima. Allora, vieni. Qui davanti. Allora, pronta? Vai, va bene. Allora, la mia... No, devo andare giù. Sì, giù. È l'ultima volta. Eccolo qui. Si, 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 si. Si, 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 si. Poi basta, si può allevare. Boh, forse è lui, si. Oh, vai. Aspetta, mi ha deciso. Ti presento. Allora, ti presento lo sposo. Il tuo marito. E' stato? Allora, portiamo via la sposa. Allora, portiamo via la sposa.